Consiglio su come pulire le orecchie al cane, anche questo è importante perché si evita che il cane prenda delle otite. Sicuramente la cosa più importante è mantenerle sì pulite ma soprattutto asciutte, perché è comunque l'umidità che fa sì che ci sia proliferazione batterica, soprattutto quando il cane ha l'orecchio pendente, per cui non entra comunque la sufficiente quantità d'aria per mantenerlo sempre sano. Quindi ecco che dobbiamo noi fare qualcosa in inerito e cioè controllarle. Controlliamo comunque che l'orecchio sia bello rosa, che non sia troppo arrossato, che non ci sia dermatite, dopodiché ci prendiamo del cotone, cotone idrofilo normalissimo, poi ci prendiamo con una soluzione specifica per la pulizia delle orecchie, lo spruzziamo sul cotone, dopodiché apriamo bene le orecchie del cane e andiamo a pulire tutto bene questo padiglione e anche un pochettino l'interno, senza esagerare, non usiamo mai dei cotton fiocco perché potremmo andare a lesionare la parte interna. Quindi puliamo in questo modo qua, bene, fin tanto che non siamo soddisfatti. Poi prendiamo un altro pezzettino di cotone e andiamo a asciugare bene. in questo modo qua. E voilà, questo è un orecchio perfettamente pulito.